6-7 colpi di pistola hanno stroncato la vita del 42enne Locrese Francesco Filippone, avvocato penalista. Ad ucciderele intorno alle 13, lo zio Antonio Sgro, 68enne. Il luogo del delitto, una attraversa di via Marconi a Locri, nel condominio dove i due abitavano con le rispettive famiglie. Secondo una prima ricostruzione, lo zio pensionato aveva già con sé l'arma e l'avrebbe usata immediatamente quando il nipote, sceso dalla sua auto, si accingeva a varcare il portone di casa. I due, infatti, abitavano nello stesso condominio e sullo stesso piano. Dispetti, sgarbi, discussioni per interessi di condominio, questi la base dell'omicidio di Filippone. Dissidi continui tra Sgro e Filippone che ieri probabilmente sono degenerati e dopo l'ennesimo battibecco scatta la rabbia omicidia del pensionato, che, dopo poco, si costituisce, chiamando il 112. Nell'abitazione di Sgro, infatti, i carabinieri hanno trovato la pistola con la quale aveva ucciso il nipote. Nelle prossime ore, sul corpo dell'avvocato, verrà eseguita l'autopsia, secondo le disposizioni dell'autorità giudiziaria che sta seguendo il caso, mentre lo zio, dopo un primo interrogatorio avvenuto nella sede del gruppo Carabinieri Locri, è stato trasferito nella locale casa circondariale. D'altro canto è maturato in ambito familiare, per contrasti familiari, condominali, quindi nulla che abbia a che fare con la criminalità organizzata, almeno come motivazione del delitto. Brutale e ferato, lo sono sempre per definizione tutti gli omicidi, ma è stato sparato d'impeto, credo, probabilmente, questo poi bisognerà accertarlo, ma comunque è stato attinto da vari colpi di pistola, da un parente. Ma in genere, quando maturano in un ambito che non è quello della criminalità organizzata, spesso dal movente si riesce a risalire anche al responsabile. In questo caso, polizie e carabinieri sono intervenuti rapidamente, la polizia era sul posto, poi i carabinieri hanno ricevuto notizia proprio dalla persona che ha commesso il delitto, quindi a breve anche l'interrogatorio da parte del sostituto di turno che procederà a sentire questa persona. Scartata la pista di indrangheta, incredulo il sindaco di Locri Giovanni Calabrese, un dramma familiare ha dichiarato, siamo profondamente addolorati. È stato ucciso, dice, un professionista stimato e apprezzato dell'intera comunità, dichiarando la sospensione della seduta del Consiglio Comunale che era stata convocata per ieri pomeriggio.